poveri storti poveri gridini ragazzi poveri gridini fammi vedere qua dai fammi leggere no non è questo è questo mi leggera un attimo perchè io ce le ho segnate le cose adesso me le segno bene così non mi dimentico nulla devo rafforzare un po' il canale soprattutto dopo la cancellazione di massa che ho fatto devo recuperare vedono video perduti visual perdute però ovviamente che abbiano un senso a bestia a voi in alto di 100 mila iscritti attiva della campanella per ogni aggiornamento grazie di cuore a ognuno di voi super grazie se volete cioè super grazie sotto al video se volete grazie 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 a prescindere raga ognuno di noi sbaglia certo youtube con me è stata un po' severa però insomma ho sbagliato e non dovevo sbagliare ho già raccontato il perché però se volete ne riparleremo magari in una diretta vedremo se mi va se mi andrà non è una questione di vita o di morte ma invece sembrava una questione di vita o di morte la Saris che cos'è mo? sta delusione da parte di Fratoianni e Bonelli no perché dicono prima dell'intervento di Ilaria Saris prima che Ilaria Saris entrasse che tra l'altro lei non è neanche dentro a VSS per il proprio lei è indipendente mo sentite sta robina sentite un po' sta robina Fratoianni e Bonelli prima di Ilaria Saris è comunque partito si avvicinava al 6% dopo che è stata nominata o quando è stata nominata è andato al 6,7% lasciando fuori praticamente Renzi e Calenda al Parlamento Europeo però dicono da dentro al partito più che altro chi invece al Parlamento Europeo è di vicino a Saise se così dicono e dicono giornali di centrodestra attenzione che Fratoianni e Bonelli visto anche l'atteggiamento che sta avendo lei che è un po' troppo estremista per i loro gusti e non rispecchi invece i loro ideali di partito soprattutto Fratoianni sinistra italiana comunista ma nel senso non dispregiativo nel senso che così è basta politicamente parlando non sarebbero e non siano davvero contenti di questo operato e si aspettavano di più si aspettavano di più non dal punto di vista della sua presenza che c'è si fa il suo giretto si fa le sue tourne e va là adesso in Piemonte però Piemonte con gli estremisti una gran parte di loro sono estremisti non sono molto d'accordo e per quanto riguarda i percentuali si aspettavano di più si aspettavano di salire e invece scendono ancora non più erano vicini al 7% e ora invece scendono ritornando prima dell'arrivo della Salis come lo deputato a loro cioè al 6% addirittura 5,8% secondo gli ultimi sondaggi ufficiali mettiamo in bocca ancora persone cose che in realtà non hanno magari detto ma forse l'hanno minimamente pensato qualcosa secondo me l'hanno pensato ma detto no ufficialmente secondo voi sono davvero delusi? ci hanno ripensato?